In questi giorni abbiamo letto, ascoltato dai telegiornali, della situazione nella pianura padana. La qualità dell'aria è molto bassa in città come Milano, Monza, Brescia, ma anche città dell'Emilia-Romagna. Addirittura alcune di queste sono state paragonate a città molto inquinate, note per essere molto inquinate, come Delhi in India e Pechino in Cina. Questa mattina vogliamo fare un po' di chiarezza, cercare di capirne qualcosa in più grazie alla competenza e alla presenza dell'ingegnere Francesco Petracchini, direttore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR. Buongiorno direttore, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, ci aiuti a fare un po' di chiarezza. Che cosa sta succedendo? Beh, niente di nuovo in realtà. Sappiamo, sono già informazioni che abbiamo e su cui lavoriamo noi e lavora il governo e le regioni da anni. La qualità dell'aria, appunto, che è una padana, è caratterizzata da alte concentrazioni. Quindi, nello specifico, nei periodi invernali, dove c'è una ridotta irraggiamento solare e quindi un limitato mescolamento degli inquinanti, succede che nelle zone quali, appunto, queste, dove avvengono molte attività produttive, molti spostamenti, vivono persone, c'è una forte attività anche di allevamenti e agricola, evidentemente si generano dei numerosi superamenti dei limiti di legge. È chiaro che, in più, la prima padana è particolarmente sfavorevole perché, come immaginate, è circondata da montagne, appennini ed alpi. Quindi è una zona che, a livello meteorologico, è davvero, diciamo, sfavorita, una di più sfavorevoli a livello europeo. Dovete considerare che poi questo va a innestarsi e a peggiorare in un'ottica di cambiamenti climatici, nei quali la presenza di questi forti anticicloni, in questo periodo, generano ancora più una stagnazione dell'atmosfera, ridotte precipitazioni e quindi sono fenomeni che vanno a, come dire, a incrementare delle problematiche che già sono, come dire, presenti. Da qui a dire che poi le città del Nord Italia sono come le città dei paesi di biosviluppo, beh, questo, lasciatemi dire, sono delle notizie per attrarre, appunto, magari informazioni e per attrarre abbonati su particolari canali. Le città italiane nel corso degli anni, dei decenni, sono caratterizzate da un miglioramento continuo degli inquinanti, dalla concentrazione, perché la tecnologia ha fatto il passo, perché la mobilità è migliorata, perché stiamo utilizzando meglio anche le fonti rinnovabili. Quindi, diciamo, c'è un miglioramento, è chiaro che siamo arrivati a un punto in cui la tecnologia non fa tutto e quindi dobbiamo o cambiare tecnologia, non specifico spostarci su mobilità elettrica, dobbiamo magari elettrificare anche i nostri sistemi, ma dobbiamo anche migliorare le performance delle nostre case in termini di isolamento, dobbiamo avviare anche una trasformazione dell'agricoltura, degli allevamenti, quindi tutto quello che è un refluo dell'allevamento azotecnico in realtà può essere potenzialmente utilizzato per produrre energia, per produrre biometano e quindi ecco, dobbiamo spingere il più possibile verso una transizione ecologica, tanto più che, come sapete, abbiamo degli obiettivi veramente stringenti al 2030, al 2050, quindi dobbiamo prendere queste crisi temporanee come sprone per attuare maggiormente quelle trasformazioni a cui siamo, come dire, soggetti in cui abbiamo preso impegni anche nei confronti della Commissione, ma anche per tutelare le persone che i soggetti fragili continuano a essere impattati dalla qualità dell'aria. Considerate che in Italia, diciamo, l'estima parlano di 50-60 mila decessi per anno per patologie legate all'inquinamento atmosferico, quindi è comunque un tema importante e su cui dobbiamo certamente intervenire nei prossimi anni. Eh, soggetti fragili come possono esserlo i bambini o le persone anziane. Lei parlava appunto del 2030, che è davvero dietro l'angolo, sembra lontano ma ci siamo quasi. Come direttore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, potremmo dire che la vostra mission è agire nel presente per migliorare il futuro? Beh sì, certo, noi veniamo dalla lunga storia, il CNR quest'anno ha fese già di 100 anni di storia, quindi la ricerca è proprio a servizio della società e così deve essere, nel senso che senza ricerca non avremmo superato, diciamo, le amie imminenti ma anche recenti, considerate anche la crisi della pandemia Covid-19, che è stata superata grazie ai vaccini che la scienza ha portato, ma questo vale su tutto, vale appunto sull'analisi delle problematiche ambientali, sul supporto ai politici, alle amministrazioni centrali per comprendere quali strategie fare. Quindi ecco, l'Istituto nell'ambito del CNR lavora su queste leve, i nostri ricercatori e tecnologi studiano, brevettano, ricercano, misurano, e quello che cerchiamo è anche fornire appunto supporto ma anche nuove informazioni. Dovete comprendere che la qualità dell'aria è un fenomeno complesso per il quale noi respiriamo diverse molecole, centinaia di molecole e queste molecole, alcune di queste molecole, noi siamo già consapevoli del danno che fanno, ma di altre stiamo studiando e arrivano nuove informazioni sull'impatto che questi inquinanti hanno. Quindi dieci anni fa non si parlava delle nanoparticelle, non parlavamo degli interferenti endocrini, non parlavamo delle nanoplastiche che adesso troviamo anche in aria, non parlavamo dei diradanti di fiamme, insomma ecco, degli inquinanti nuovi che emergono e per i quali quindi è chiaro che dobbiamo anche comprendere i danni e dobbiamo cercare di tutelare la salute dei cittadini italiani, europei, mondiali. Quindi la scienza serve un po' a questo, serve a studiare, serve a dare anche delle risposte e a fungere da sprone per l'applicazione di nuove tecnologie. Quindi facciamo tutto questo, le nostre cinque sedi, i nostri quasi 200 ricercatori dell'IA lavorano su questo con tecnologie, insomma, con fisse, mobili e lavoriamo sempre nell'ottica di un miglioramento. Attualmente declinato appunto nell'ottica della decarbonizzazione, della trasformazione della società che stiamo vivendo, insomma, è chiaro che viviamo in un contesto adesso nel quale davvero la società può e deve trasformarsi verso una società a emissioni zero, è una scommessa ambiziosa, complessa, che produrrà una trasformazione di tutti i sistemi sia produttivi che di gestione. E tutto questo lo facciamo e dobbiamo farlo però con il coinvolgimento dei cittadini, cioè i cittadini sono un elemento cardine di questa trasformazione, quindi dobbiamo anche come CNR, come istituto, dare le giuste informazioni ai cittadini perché sappiano come tutelarsi, sappiano le scelte che fanno, quanto impattano. Non è facile, però ecco, lavoriamo anche nelle scuole perché arrivino le corrette informazioni, perché i bambini di adesso, che saranno adulti di domani, potranno capire come tutelare tutto l'ecosistema, perché è l'ecosistema che reagisce alle nostre sollecitazioni. Se abbiamo questi impatti adesso sul clima sono dovuti ai nostri 200-300 anni di storia, di trasformazioni che stiamo facendo in modo evidente all'ecosistema. Quindi dobbiamo comprendere la nostra impronta e iniziare un percorso che sia più in linea con l'ecosistema, perché in realtà la natura, Gaia, come vogliamo chiamarlo, si adatta alle sollecitazioni e si adatta indipendentemente dall'uomo. Quindi troveranno dei punti di equilibrio di precipitazioni, termico, quindi temperatura che diventeranno impossibili da vivere per l'uomo, ma che consentano il perdurare dell'ecosistema terra. Quindi dobbiamo capire come chiudere i cicli, rispettare tutti gli esseri viventi che popolano la terra ed è un percorso oltre che tecnologico, anche lasciatemi il termine, è etico. Quindi abbiamo tutti gli elementi adesso per farlo e per essere all'altezza della nostra missione secondo me dobbiamo trasformare il modo in cui ci approcciamo alla natura. Mi piace il termine che ha utilizzato, missione, scommessa ambiziosa, che però è una scommessa che ci riguarda davvero tutti, dai bambini delle scuole fino appunto agli scienziati. Grazie di cuore all'ingegnere Francesco Petracchini, direttore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, per essere stato con noi e per averci dato appunto questo importante quadro della situazione. Grazie di cuore, buon lavoro, buon lavoro a tutti. Grazie dell'invito e grazie ancora a voi, a presto. E allora noi ci fermiamo, di nuovo linea alla regia e poi di nuovo insieme.